Lui sta facendo la calciata dietro, rapida. Calciata dietro, rapida. Calciata dietro, rapida. Quello è un misto. Calciata dietro, rapida, rapida. Rimbalzata, 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 rimbalzata. Quello è rapida, quello in mezzo è rapida, rimbalzata. Rimbalzata la signorina con la cosa maranto. Rimbalzata, rimbalzata. Rapida, Isma. Bravissima, rapida. Perfetto. Perfetto, capito com'è? Ci divertiamo quei ragazzi, non la prof io la stavo facendo rimbalzata. Alzi, ferma, io ho capito un'altra cosa, noi siamo fermati. Allora fammi vedere bene la tua espressione. Questa è un'espressione motorica, si dice espressione corporea, questa è un'espressione corporea. Io sto esprimendo un gesto e io devo capire quello che tu esprimi. Abbiamo la mimica facciale, no? Sta colui che ti la fassi del sole e sta un po'... Invece qualcun altro sta lì e ti osserva, capito com'è? Queste sono espressioni visive, la rabbia, la gioia, noi le esprimiamo col nostro corpo. E qui esprimiamo un movimento e io devo capire che movimento esprime. E lo posso fare in tantissime altre cose. Adesso focalizziamo l'attenzione su un esercizio difficilissimo da fare, dove io focalizzo l'attenzione solo ed esclusivamente sulla tibiotarsica. Allora io al ragazzino gli dico, guarda, ti hanno cementato tutte e due le ginocchia. Tutte e due le gambe. Stai dentro un blocco di cemento, sei libero solamente i piedi. Oppure ai ragazzi gli dico, si hanno messo una minigonna tanto stretta che se tu provi a tubo, che se tu provi a fare questo quella ti sei strappato, resti in mutante. Allora tu però che devi fare? Devi camminare. Devi avanzare. Allora non puoi assolutamente muovere il ginocchio, non puoi lavorare sul piano sagittale. Puoi usare solo i piedi. Che per un saltatore è come le mani per un pianista. È tutto. Il piede è tutto per il saltatore. È tutto. Allora io che cosa devo insegnare ragazzino? A fare questo, così la signora si toglie l'abitudine della punta bassa. E questo io devo tirare sull'avampiede usando un muscolo che si chiama tibiale anteriore che noi dimentichiamo. Invece è molto importante. Capito il tibiale anteriore. E facendo questo movimento, quindi solo con l'utilizzo della tibiotarsica che per i salti è fondamentale, io avanzo. Quindi l'esercizio diventa questo. Guardate, vedete le mie ginocchia come sono perfettamente parallele. Però per avanzare io cosa faccio? Tiro sulla punta del piede e poi la riporto a terra. Vedete? E faccio questo tipo di lavoro. Se io faccio questo, sto sbagliando. Io posso avanzare, non avvacchiare. Eh, eh, eh. Se la fa il piede. Pro la pianta. Non è proprio accettivo, questo è un ribalzo. Ma io le zappiando. La proprio accettiva è quando faccio questi lavori. Proviamo. Può fare anche coda. Tiene tutto a piede. Non c'è calciare. Non è male anche con la gamba. C'è calciare la gamba. Eh? Non è un problema. Fatemi vedere come riusci. Guarda là. Guarda. Non è mezza piano. Vedi quanto poggia che fa? Vedi? La poggia è quasi completa. Non avanzare con le ginocchia. Non avanzare con le ginocchia. Bravo, bravo. Lui lo sta facendo molto bene. Poi lo facciamo vedere. Guarda cosa sta facendo Andrea. Sforbiciata. Pure lui sta facendo la sforbiciata. Quanto è difficile. Bravo. Non avanzare con le ginocchia. Dai. Lui lo sta facendo benissimo. Ma chi è il tuo professore? Ma chi è il tuo professore? Vedi la signorina come trova? La signora come trova difficoltà perché per tutta la vita gli hanno detto. Gioco e le punte. Il tibiale non esiste. L'hanno inventato. Non è un muscolo. Bravo Isi. Bravi ragazzi. Bravi. Bravi. Qui ci siamo. Bravi. 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 Avete visto quanta varietà. E questa varietà che io trovo qui. Non si trova due ragazzi. Perché poi attenzione. C'è quello che ha una grande capacità motoria. Una grande capacità di sentire il movimento. E che cosa fa? Arriva e te lo fa subito l'esercizio. Un altro che ci mette tempo. Molti che facevano? Avanzavano. Chi ha detto? Eh ma avanza con le ginocchia. Allora gli dobbiamo far capire che significa avanzare con le ginocchia. E poi dargli l'alternativa. Allora io posso avanzare. Come ti chiami? Stefano. Stefano. Grande. Ti voglio attento Stefano. Guarda adesso che facciamo. Io posso avanzare facendo questo lavoro. e le ginocchia ce le ho bloccate come prima. E faccio questo. Ok. Gli faccio fare questo esercizio. Guadagniamo tempo. E poi faccio come ho fatto prima. Vi dico ai miei allievi. Ragazzi scegliete. O avanzate usando solo la tibiotarsica. O avanzate usando che cosa? Facendo in questo modo. Quali sono i muscoli importanti che io devo usare se voglio avanzare anche velocemente? I flessori dell'anca. Bravo. Glutei e hamstring. Se io voglio avanzare tanto. Io faccio così. Guardate. Quello dei bei colpi a terra. E quanto è importante quanto salto fa a fare questo tipo di esercizi? Molto. Proviamo? Ognuno di voi si sceglie come vuole avanzare.